Buonasera, buonasera a voi. Allora, a me personalmente così non è entusiasma a parlare come fanno tanti tutti i giorni di numeri di questa pandemia, fare commenti, polemiche e quant'altro. Perché secondo il mio punto di vista questo è semplicemente un pretesto per distogliere l'opinione pubblica da quelli che sono i reali problemi. Io ovviamente mi soffermo sul nostro paese, sull'Italia, i problemi che riguardano l'economia, riguardano la disoccupazione che da settembre in poi potrà veramente causare dei danni incredibili nel nostro paese perché lo sappiamo per certo che molti piccoli, medi, imprenditori, artigiani non saranno nella condizione di continuare o chi potrà farlo dovrà però ridurre la propria attività che vuol dire anche ridurre il personale. E quindi è questo il vero dramma al quale andiamo incontro oltre al fatto, l'abbiamo sempre sottolineato, della perdita della nostra libertà giorno per giorno e oggi pomeriggio nel video che vi ho presentato vi ho fatto così un elenco solamente delle ultime 3-4 cose che ha deciso il governo che dimostra chiaramente che si va in quella direzione. Intanto così, tanto per gradire ci risiamo rispetto a ieri, io vi avevo dato il dato di ieri, 625 contagi su 71.000 tamponi che se la matematica non è un'opinione è sotto l'1%, è lo 0,9 per la precisione. Oggi il dato è stato di 800 e passo 850 credo circa contagi e subito apriti cielo, i commenti soliti, molto parziali, davvero ingannevoli, questa è una cosa sulla quale io credo che davvero però anche il garante dovrebbe finalmente intervenire. Perché non si possono dare i dati in questa maniera, anche perché oggi come ieri ci troviamo di nuovo di fronte ad un dato dei tamponi che è un record assoluto in questi ultimi mesi, ancora più di ieri, ieri erano stati 71.000, oggi sono 77.000 e quindi voi capite che siamo all'1,09, quindi sempre intorno a quell'1% che vi ho sempre detto è un dato assolutamente fisiologico col quale dobbiamo imparare a convivere. Ora, attenzione io sono uno che guarda sempre in faccia alla realtà, mi sono occupato nella vita di comunicazione, di economia, di finanza e quindi per me i numeri contano. Però non ho mai avuto la sfera di cristallo, ho sempre cercato di lavorare al meglio, di programmare al meglio, di pianificare le cose, ma francamente la sfera di cristallo non me l'hanno mai regalata. Mentre sembrerebbe che a tutti questi personaggi sia stata regalata, che ne possiedono una, ne possiede una addirittura Bill Gates che non mi risulta essere poi uno scienziato e che quindi magari attraverso l'esperienza può dirci cosa succederà in futuro. E quello che è incredibile di questo personaggio che andrebbe secondo me arrestato a questo punto, perché capite voi non si può non arrestare un personaggio che è talmente influente nell'opinione pubblica del mondo, non solo negli Stati Uniti, che oggi ha dichiarato che ci saranno ancora milioni, attenzione, milioni di morti per questa pandemia. C'è come cavolo fa dire una cosa del genere? Nessun scienziato è in grado di farlo. Una volta quando è stato chiamato a fare delle previsioni, Zangrillo ha risposto nella maniera più giusta che uno debba rispondere. Io non so cosa succederà il 7 dicembre, non so se nevicherà oppure no, figuriamoci se so come evolverà la situazione, come sarà la situazione nel mese di dicembre e nei mesi a venire. Invece ancora una volta questo terrorista di Bill Gates dice una cosa che è abominevole veramente, perché non ha nessun appiglio scientifico poter dire una cosa del genere, addirittura parlare di milioni. Capisco se uno dovesse, in base alle previsioni, a quello che vediamo oggi, parlare ancora di centinaia, migliaia, ci potrebbe stare, ma voi capite, milioni, lui parla di milioni, perché chiaramente ha un unico interesse che noi conosciamo ormai molto molto bene. Ma guardate che su questa lunghezza d'onda c'è l'Italia, ci sono scienziati italiani vicino al governo che vanno dietro questo tipo di idea e questo tipo di intervento. Non ultimo, l'ho citato anche questo intervento oggi nel video del pomeriggio, Ricciardi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dichiara, non è detto, vedremo se realmente si andrà a scuola il 14 di settembre. Continua quindi questo stilicidio di informazioni da parte di questi personaggi e, ripeto, ora sarebbe veramente anche venuta l'ora che qualcuno gli fermi, con le buone o con le cative. Vanno fermati, vanno fermati perché stanno uccidendo di panico le persone, stanno dicendo cose assolutamente inverosimili, perché, ripeto, è impossibile in questo momento fare delle previsioni a così lungo termine. è una cosa assolutamente che neppure gli scienziati possono fare. Ripeto, da ora in poi, tra l'altro, vi metterò sempre, non voglio più parlare di questo da ora in poi, però vi metterò nella descrizione, sotto il titolo del video, vi metterò dato giornaliero 0,1, e voi semplicemente vi guardate questo dato e quindi non avete bisogno di ascoltare il telegiornale, di andare a trovare il dato sui giornali, sul web. Avete il dato e voi sapete che se questo dato si aggira intorno all'1%, non supera il 2%, vuol dire che siamo in una situazione fisiologica, in una situazione, come ci hanno detto gli scienziati, che è di convivere in questa maniera con il virus e potremo stare tranquilli. L'unico momento in cui, eventualmente, ma ripeto, nessuno lo può sapere, se questo dato dovesse andare al di sopra del 2% per qualche giorno, allora evidentemente ne parliamo. Io sono abituato a ragionare su una cosa alla volta, a guardare in faccia le evidenze e non a fare delle previsioni che nessuno è in grado di fare. Quindi un bel numerino che, ripeto, se intorno all'1% vorrà dire che siamo tranquilli, che non dobbiamo preoccuparci. Dobbiamo continuare ad avere certe precauzioni, però andare oltre senza farci venire dal panico. Ora concludo dicendovi, cercate veramente il più possibile di informarvi, di non ascoltare i telegiornali o perlomeno, se avete il tempo di ascoltarli, però di confrontarli anche con quello che vi viene detto nel web, di andare in profondità ai dati e agli avvenimenti. Davvero questo è uno sforzo che gli italiani devono iniziare a fare, altrimenti rimanete tagliati fuori da quello che è la realtà, da quello che sta succedendo intorno e verrete colti impreparati. E questa è una cosa che nessuno in questo momento si può permettere. Con questo io vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.